Quando io parlo di concordo, di voci che concordano, non è che le voci concordano soltanto a livello musicale, diciamo così, naturalmente sono anche le persone che in qualche modo hanno dei fini comuni rispetto al canto, ciò che portiamo avanti tutti quanti, che si esprime un po' con i testi, un po' con quello che facciamo, naturalmente siamo tutti e quattro che in qualche modo facciamo concordo, non solo musicalmente ma lo facciamo anche personalmente nel senso che ovunque noi andiamo portiamo avanti la nostra cultura, la nostra tradizione, portiamo avanti noi stessi, siamo noi stessi in prima persona che ci proponiamo. a uno fumo e che in a gobertore, che pade da guibone ne abudire. un po' con mazzana... un po' con gli indi. un po' con i testi, un po' con i testi, un po' con i testi, non è che il nostro 어i soltanto, non è che il nostro いてllo, che能namo, vera così. un po' con i testi sarà il해요, che è un po' con i testi che v compensation di UBo. e anche per l'obattaccio di nuuli O l'endecchia in carrella e tia Maria, e intendo gusturare, e intendo gusturare, e intendo gusturare, e silenavere, e intendo gusturare, 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 e intendo gusturare un mal fuori amparà a fettui e amparà a fettui e amparà a fettui e amparà a fettui e che non ho minato doi un mento in maia non ho presentato e amparà a fettui e amparà a fettui e amparà a fettui e amparà a fettui doi un mento doi un mento in maia né due vage doi un mento in maia e mancare non so, to io e me lo invai e vuoi alanzare, to io e me lo invai vuoi alanzare, to io e me lo invai a esa di conoscuro, moro in moro in Mayam